La soluzione progettuale che vi propongo oggi mi sembra interessantissima vista che soddisfa le due necessità. Per un lato quella di avere una casa in montagna, bensia prima o seconda casa, e dall'altra la necessità di fare un ottimo investimento. Mi spiego, l'immobile è stato progettato per essere venduto come una unica soluzione con la zona giorno al piano terreno e la zona note al piano primo. Un'alternativa di questa progettualità è quella che si potrebbe acquistare solo il piano primo, così l'acquirente avrebbe un appartamento in montagna con particolari di pregio come sono le pareti in pietra, sopalco e tetto in larice recente costruzione e ottima vista. Evidentemente una terza soluzione potrebbe essere quella di acquistare a corpo per dopo metterlo a reddito attraverso il sistema affittacamere. In questo modo l'acquirente avrebbe la sua casa in montagna che se la può godere e avrebbe delle entrate di poter affrontare tutti i costi di imposte di manutenzione. Entriamo nei particolari. Tutto ciò che vi ho detto finora è stato risolto grazie a questo disimpegno. Se analizziamo l'immobile come due alloggi indipendenti, al piano terra si accede attraverso questa porta. Si trova un grandissimo spazio open space con una cucina vista, un tavolone in legno dove poter fare i pranzi e le cene, il divano per poter vedere la tv o semplicemente per la conversazione. Troviamo un bagno molto spazioso con uno spazio che potrebbe essere utilizzato per le faccende di lavanderia. Quello che è un pregio di questa unità abitativa è proprio la superficie accessoria che sicuramente sarà di grandissima utilità e molto comoda. Invece per entrare all'altra unità abitativa cioè quella del piano primo si accede attraverso questa porta in disimpegno, scala e si arriva al piano primo dove troviamo un grandissimo open space, una bellissima cucina col bancone per fare pranzi e cena. In più il bagno finestrato è la scala che porta all'area soppalcata, anche essa come un bagno. Come potete vedere dalla grafica entrambi il piano primo e il piano soppalcato hanno il balcone. Come sicuramente avete visto nelle fotografie pubblicitarie l'immobile è in una fase avanzata di ristrutturazione e l'intenzione del proprietario è di venderlo così come è oggi affinché la curente possa personalizzare il rifinitore.